Ciao a tutti e quindi direi di iniziare anche se mi piscio sotto provate a sentire la musica e vi sparate proprio quindi io direi di iniziare perché non ce la faccio più voglio spararmi, ve lo giuro, voglio spararmi e quindi direi subito di iniziare start game perché apparentemente non ci pisciamo abbastanza su... oddio, spariamoci ragazzi le sigarette fanno male, non fumate e non drogatevi ve lo dico subito presents, shit c'è sempre la merda ragazzi poco mi assicuro slender the 8 pages beh possiamo andare? dai, sbrigiamo se collect 8 pages oh mio dio posso andare? ah no, vedo me l'altra parte ecco, te li vedo ok ragazzi siamo... alla fine questa è la storia siamo un ciccione che è appena uscito da McDonald's in mezzo alla foresta che c'ha una busta di 10 cheeseburger double cheeseburger McBacon mano e i passi che sentire sono le patatine che si sta a mangiare e Greek rock e non sono anche perché si trova qua al mezzo cioè ma io dico ma tu c'entresti a un McDonald's in mezzo alla foresta Cioè si è fumato qualcosa per venire qua Oh ragazzi abbiamo già trovato la prima Miracolo Ok ragazzi Un'andata, sette rimanenti Perché non è una pagina sola Invece otto Invece sono otto Quella è una cosa che non capisco proprio Ecco sono andato alla rete Slenderman 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 Do you like the slenderman Do you like the slenderman Do you like the slenderman Do you like Do you like I know that you like You like the slenderman Ma dove cazzo sta slenderman Slendy Ti voglio bene bro Fattolo di, al mio cuore te lo dico Ma vaffanculo Scherzo Siamo arrivati allo stesso punto Ciao albero Beh c'è un'altra pagina per me Spero di sì Dammi un'altra pagina Dammene un'altra Non c'ho un cazzo da fare io Sono in una foresta Mangiando patatine del McDonald's Che tanto gli addietro Non ci sto mai Ma che cazzo Ma perché ragazzi Perché 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 mi avete chiesto di farlo Io horror games Non sono del mio tipo E ve lo dico subito Poi vado a consigliarmi Consigliarmi rage game Che sono molto neico Citazione di Sabatore Gabriele Pam 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 Oh ma questa solo rete Slenderman non cominci a rompere le palle eh Chi va di voi e temmela bene Senza intermissioni eh Tu non capisci Mi sa che non capisci i slendi Slenderman Slenderman Do you like the slenderman Do you like the slenderman Do you like the slenderman 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 Do you like Ma quanto si può trovare una minchia Oh ma può essere Quanto si può trovare una minchia Qua sono solo alberi ragazzi Alberi Alberi Qua si trovano solo alberi Ok Abbiamo trovato un camion Camion Aiutami tu Te prego aiutami tu Camion C'è una pagina per me Perché se ce l'hai ti ammazzo Te buco i rodi E ti mando a fangolo pure C'hai qualcosa C'hai un regalino per me Ma tu c'hai un cazzo invece Ma orta esci tu Già mai un cazzo tu Slenderman Eh Dici qualcosa a sto camion Che c'hai un cazzo per me C'hai un cazzo Ok vediamo la casetta Casetta ma aiuti tu invece Eh Invece tu mi rendi felice Ce l'hai la pagina che sto cerca No neanche questa ce l'ha Porco due C'hai un cazzo C'hai davvero crisi Pure dentro sto gioco sta crisi Pure dentro a gioco sta crisi Ragazzi La crisi sta dappertutto Mortacci sta crisi Come fare anche tra le pagine Ragazzi In segreto Albero Non mi rompe più Che già il camion E la casetta Mi hanno fatto trovare un cazzo Ci sono già passate Cinque minuti E non abbiamo trovato Solo una pagina Un record schifoso C'è un altro camion Ragazzi Andiamo da meno a sto camion C'ha qualcosa almeno Perché se no mi incazzo Camion Non fa come tuo fratello Che non c'è un cazzo Dimmi che c'hai qualcosa tu Ma dimmi che c'hai qualcosa Ragazzi Minaro C'ha qualcosa almeno questo Can't run C'è credo Con tutte quelle buste Dei patatine fritte Se non dire c'ha qualcosa Tociccia bomba Corri dai Facciamo 100 metri Vediamo quanto ci vuole Che fa 100 metri C'è una obesità Ci vuole Ecco che ci vuole Ragazzi Non andate sempre a McDonald's Che fa male E voglio dire La mia esperienza Scherzo Ok c'è un tunnel Cioè Abbiamo trovato un tunnel L'ombelico del mondo Che cazzo c'è in Dun 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 Ciao slenderman Dove cazzo sta i Dun Ragazzi Io vi devo dire Record Me E quattro pagine Lo dico subito Così tant' Ok ragazzi Tre pagine Stiamo andando abbastanza bene e si sente più la paura si sente piano piano prendi più pagine e più la paura ti ribolle nelle vene cioè è una cosa pazzesca porco 2 slenderman che stai come spiderman che mi aiuti mandi le ragnatele oh slendy how are you hai messo cosa sono tutto dietro perchè in caso mi sta dietro pure è mio nella vita reale poi porco 2 dove cazzo stai? blenderman dove cazzo stai? ragazzi io mi guardo dietro mortasci tu per stare cazzo c'è un cazzo che lo fa oltre che fa lo stalker ok ragazzi vediamo l'altra volta tua madre è brutta hai capito? tua madre è brutta ok ragazzi quarta pagina battuto il mio record anzi non proprio perchè 5 pagine sembra il mio record help me col cazzo che ti aiuto capito slender? slender porco 2 non sei brutto fatto di fatte una plastica perchè sei brutto come la fame si capito? fatte una plastica vedi è un bel consiglio che sto dare perchè le plastiche fanno bene ti fanno 50.000 euro però alla fine ti danno un risultato almeno almeno quello ti danno slender man where are you? tua madre è brutta come la fame lo sai? però tu non mi fai trovare un cazzo ok ragazzi qui ancora non c'ho un cazzo che palla sta spenso mi sta a far sparare guarda se dove non entra la casetta io mi sparo perchè la casetta è la cosa che odio di più del suo gioco perchè ti fa prendere gli infarti ha voglia che infarti dove cazzo devo andare? sono i banno avanti ok ora non so dove andare vorrei andare di qua però ok ragazzi andiamo c'entranto moriremo lo stesso c'entranto l'ottopaggio ce ne prenderemo mai oddio parlando di casette spuntano parli del diavolo spuntano i orna oh slendy where are you? dam 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 da 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 oh la pagina ragazzi dai che battiamo il nostro record schifoso ok ragazzi abbiamo attorno al record bitch fuck you mada puca fuck you mada puca fuck you mada puca fuck you mada puca fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you la casetta va a f*** pure tu ragazzi io lo faccio solo per voi ragazzi avete capito lo faccio solo per voi e moriremo tutti Perché devi esistere casetta di merda? Eh? Casetta di merda Perché devi esistere? Ok ragazzi, se sta pagina Stiamo andando benissimo Io basso l'attima musica perché mi sta Mi sta impallando, lo giuro ragazzi Se stai là ti ammazzo, eh Brutto coglione, guarda Mi sporca pure per terra mortasci tu, ah oh Che bello ragazzi siamo usciti Seria di merda, ragazzi siamo a sei pagine Ma mi mortasci tu quanto sei brutto Sei così brutto che mi fai morire Ecco perché allora quando vedi ti ammazza, oh È azzeccata la cosa No, io non ce ne rindo più da caso Ci sono rientrato, ringraziamo di dare Porco due, oh Ragazzi sono morto così Mi ha preso, ho detto mortasci tu Che hai detto di mia madre? Che hai detto? Comunque ragazzi Abbiamo finito, abbiamo preso sei pagine su otto Diciamo è stata una bella prova comunque Comunque ragazzi, come sempre questo è tutto Ci vediamo sotto un nuovo video Aspetta un attimo che cerco Bella ragazzi Peace